L'Ostella Falcone, assessora al turismo del comune di Vieste, oggi va in scena Job in Vieste, un evento che sta facendo incontrare domanda e offerta di lavoro in un periodo difficile come questo, visto che c'è carenza di personale nelle strutture turistiche. Cosa vi aspettate? Sì, questo è un evento in realtà che nasce un po' dal basso, dall'ecisigenza, che parte dal settore turistico, che è alla ricerca di collaboratori professionali e che è poi in linea un po' a quello che è il nostro piano strategico del turismo. L'obiettivo principe è quello di perseguire la qualità, qualità dell'offerta turistica, che ovviamente si registra tanto attraverso le imprese, quindi anche attraverso la formazione delle imprese e attraverso i collaboratori delle imprese turistiche. Per cui è un appuntamento d'inizio, il nostro banco di partenza che auspichiamo possa svolgersi ogni anno migliorando, cercando quindi di dare una risposta importante alle imprese, ma anche ai tanti collaboratori che sono l'infa vitale per le aziende. Infatti, come è scritto anche nel sottotitolo della manifestazione, Job in Vieste cresciamo insieme. Sono due mondi che devono crescere insieme e sono sicuramente indissolubili ed indispensabili per riuscire ad offrire una qualità turistica di livello superiore. Assessore Piemontese, un gasgano sempre più in fermento alla vigilia della stagione estiva? Sì, questa è una bella iniziativa fatta qui a Vieste, in questo prestigioso istituto alberghiero. Cioè, il tema di fare in modo che le strutture turistiche abbiano personale, personale ben retribuito e personale qualificato, perché uno degli obiettivi che dobbiamo avere qui sul Gargano è quello di aumentare la qualità dell'offerta turistica. Abbiamo presenze importanti, Vieste è una delle capitali del turismo italiano, con oltre 2 milioni di presenze, ma dobbiamo aumentare la qualità dell'offerta turistica. La qualità è una cosa importante, non dipende solo ed esclusivamente dai numeri. Io credo che qui si stia facendo un lavoro importante per andare verso quella direzione e per incrementare ancora di più la qualità dell'offerta turistica. C'è un tema molto importante di mancanza di personale sia qualificato che non qualificato nel mondo del turismo. Proprio per questo motivo il Comune di Vieste ha voluto attivarsi e creare un evento originale come questo, di due giornate, in cui faremo in modo da far incontrare domande ed offerta, anche in maniera dal vivo finalmente, quindi la possibilità di sostenere dei colloqui direttamente con le aziende, ma è anche un momento di confronto tra operatori e un momento anche formativo per capire come poi da oggi nel futuro poter migliorare il rapporto tra chi fa questo lavoro nel mondo del turismo e chi offre opportunità di occupazione. Siamo venuti io e un gruppo di miei amici da Manfredonia per questo evento, perché crediamo che possa darci una retta strada per realizzare i nostri sogni, ovvero quelli di lavorare nel turismo. Quest'estate mi piacerebbe molto appunto lavorare, se possibile anche qui a Vieste. Mariela Nobiletti Gargano Mare, un incontro questo per cercare di qualificare il personale, quel personale che negli ultimi anni viene sempre più a mancare? Sì, è un'occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, al quale abbiamo poi aggiunto anche la possibilità di fare degli incontri formativi su alcuni temi, perché è necessario ed è importante che il personale sia ormai sempre più qualificato. Ma quando parliamo di personale, è una cosa che mi preme sottolineare, nelle aziende turistiche l'importanza del personale è fondamentale, perché ogni impresa turistica è una squadra che deve andare tutta nella stessa direzione. Di conseguenza tutti quanti devono avere una formazione elevata e devono perseguire lo stesso obiettivo. Il successo di un'azienda turistica è dato dalla capacità di fare squadra e di essere formati ad alti livelli. Negli ultimi due anni è cambiato tutto e quindi è arrivato il momento anche per i nuovi ragazzi che si approcciano appunto al lavoro, che devono già sapere quali sono i requisiti, che sono necessari e devono già sapere che devono formarsi, senza contare che proprio questi ragazzi potrebbero diventare anch'essi imprenditori. Quindi devono sapere come va il mondo. Perché manca il personale? Il personale manca senz'altro per una questione relativa all'introduzione di alcune dinamiche a livello governativo, cioè il reddito di cittadinanza per farla breve, che ha ovviamente incentivato la gente a stare a casa e non lavorare. E poi perché si è persa anche quell'elemento fondamentale per noi qualche anno fa, che è il lavoro nobilità l'uomo. Cioè i giovani hanno già tutto, quindi non hanno voglia neanche di mettersi in gioco. Gaetano Simone, direttore Hotel Eden Isole Tremiti, oggi qui a Vieste per questo appuntamento. Job in Vieste, cosa chiedete? Cosa vi aspettate? Job in Vieste credo possa essere una buona soluzione, quindi credo una buona idea nata dal Consorzio Gargano Mare, l'assessorato al turismo di Vieste. Oggi si incontrano le aziende con naturalmente i lavoratori e nella speranza di trovare un buon punto d'incontro. Il problema del lavoro in queste ultime stagioni si è fatto tanto sentire, quindi si è avuto difficoltà nel trovare e nel reperire personale, soprattutto professionisti, ma direi a volte anche non professionisti, è proprio difficile trovare persone. E quindi spero che questo sia un qualcosa non solo di quest'anno, ma che possa proseguire negli anni e possa comunque trovare sempre proficue soluzioni. Secondo lei perché non si trova personale? Perché a mio parere vanno riviste un pochettino il concetto di lavoro insieme, ma vanno riviste le regole proprio del lavoro, sia da parte del dipendente ma anche da parte delle aziende. Oggi le aziende devono offrire più benefit naturalmente ai lavoratori, stipendi adeguati, le giornate di vacanza, cioè il modo di poter sfruttare il lavoro, il modo da poter vivere e non vivere per lavorare. E di contropartita però anche il dipendente, deve essere un dipendente un pochettino più serio, più professionale, perché di Cialtroni ne abbiamo visti davvero tantissimi.